Marco Pastorino della Campese B. Marco, primo tempo a favore del Cornigliano Calcio. Secondo tempo avete iniziato bene, siete andati sul 2 a 1, però poi quando avete preso il terzo gol praticamente la partita è finita. Dimmi le tue impressioni, grazie. Secondo me sul 2 a 1 potevamo anche pareggiarla, poi il 3 a 1 ci ha tagliato le gambe e poteva anche finire peggio. Siamo una squadra giovane con difetti di carattere, secondo me ci lasciamo un po' trasportare dagli avversari, dall'arbitro. Bisogna migliorare, però secondo me la squadra c'è. Vabbè, di modo dai siete giovani, l'hai ammesso anche tu, bisogna stare un pochettino più tranquilli in campo e non farsi, diciamo, spingere dall'entusiasmo, dalle proteste e così via, ecco. Giusto? Esatto, esatto. Va bene, ti ringrazio e ciao, alle prossime.